Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che riprende con il messaggero le spese facili della regione. Soldi per le mareggiate e mance a pioggia. Bagarre in commissione dietro i 2 milioni per i danni subiti dalla costa. Un'ondata di contributi vari dalle chiese al Ciocco Festival, l'elenco di enti e manifestazioni beneficiati. In ballo anche 150 mila euro per celebrare i 50 anni dalla prima riunione del Consiglio. Legnini attacca, rasentate in indecenza, Pettinari, case popolari in attesa di un ascensore. Poi ancora salvi gli abruzzesi in Albania, protezione civile in partenza. Le pagine di Pescara, ecco qui uffici in centro per rilanciare Corso Vittorio. Sempre più vetrine spente sulla via flagellata dalla crisi. Le voci di chi resiste, il timore di criminalità e riciclaggio. Gianni Tauci, direttore della Confesercenti. Il tessuto commerciale sta cambiando. Il futuro di quella zona dipende dall'area di risulta. Poi fattorini del Ivero e cicloturismo per una città sempre più a pedali. L'azienda assume anche a Pescara, mentre la Camera di Commercio investe sulle bici elettriche. Andiamo avanti. Paolo Sesto, la guerra del medico licenziato. L'ex direttore sanitario Gennaro Mauro impugna davanti al giudice del lavoro i due provvedimenti che lo hanno messo fuori dall'azienda. Oggi la prima udienza. Il legale del professionista sostiene la tesi della persecuzione preceduta da contestazioni disciplinari a raffica. Nel ricorso si cita anche una lettera anonima che indico con anticipo le teste destinate a accadere. Andiamo avanti. Alla ASL, il caso della dottoressa Novax. Anna Rita Iannetti rilancia da Sky le sue teorie. Non c'è motivo di vaccinare bambini sani con farmaci potenzialmente pericolosi. L'azienda ha cercato di fermarmi ma non mi arrendo, dice appunto la dottoressa. L'ordine professionale replica c'è un procedimento disciplinare in corso. Loreto Aprutino, la resa del sindaco no definitivo al progetto del biogas. Starinieri invierà il parere contrario ad Ambiente S.P.A. Il comitato chiede di valorizzare il territorio. Siamo ora alle pagine dell'Aquila. Ammazzato a colpi di martello, forse conosceva i suoi assassini. Aperto il fascicolo per il reato di omicidio volontario. Si indaga sui lavori in corso all'esterno della casa. Ieri nuovo sopralluogo sul luogo dell'omicidio. Elementi decisivi potrebbero arrivare dall'autopsia. Il delitto è avvenuto fuori dalla villetta dove l'uomo si recava occasionalmente. Poi ancora, in taglio medio, dimensionamento scolastico, rischio ricorsi. Il consigliere comunale Angelo Mancini critica il piano Bignotti. Replica accuse infondate. Andiamo avanti. L'Olimpiade 2026 passa per l'Aquila. Per la prima volta la giunta nazionale del CONI si riunisce nel capologo abruzzese in programma. Grandi eventi sportivi. Il presidente Malagò dice che questa città è una delle poche realtà che può ospitare competizioni sia invernali che estive. Andiamo avanti. Siamo sempre nell'Aquilano. Coca-Cola col trasferimento. Niente tasse. Lo stabilimento del Nord Italia a Nogara esporta soltanto in paesi dove non è vigente una tassazione penalizzante. La circostanza è stata illustrata dal manager della società multinazionale. Pierini, i pericoli per Oricola e Marcianise. Si stima un impatto economico annuale di 180 milioni di euro, 40 per la plastic tax e 140 per effetto della sugar tax. Vediamo il servizio del TG6. La Coca-Cola di Oricola minaccia la delocalizzazione. Troppe tasse per il colosso multinazionale, così lo stabilimento in provincia dell'Aquila potrebbe spostarsi altrove. Le tasse in questione sono le cosiddette tasse etiche, che il governo Conte II vorrebbe introdurre. Quella ambientalista sulla plastica e quella sullo zucchero per tutelare la salute dei cittadini. Per la Coca-Cola, che produce bevande gassate in bottigliette di plastica, queste tasse peserebbero circa 180 milioni l'anno. Ma Coca-Cola si difende? La plastica non è un pericolo per l'ambiente. L'industria infatti aveva già ricevuto in passato 42 milioni da investire per la sostenibilità ambientale. Si sta facendo una campagna che criminalizza la plastica, quando in realtà la plastica è la soluzione dell'ambiente. Il problema è la dispersione della plastica nell'ambiente e gli effetti sono davvero pesanti. Lo stabilimento abruzzese, ad Oricola dal 1988, si estende su una superficie di 131 mila ettari e produce 230 milioni di litri di bevande ogni anno. Soprattutto però il braccio di ferro tra la multinazionale e il governo è sulla pelle dei 286 dipendenti e degli altri 1148 lavoratori dell'indotto che ora si vedono mettere in discussione il loro posto di lavoro. Se la Coca-Cola dovesse fuggire, questo sarebbe un guaio anche per l'economia abruzzese. Lo stabilimento infatti rappresenta lo 0,1% del PIL regionale. Speriamo che prevalga il buonsenso e sia possibile rivedere queste norme e riconsiderarle nell'ottica dell'impatto sull'industria. Questo stabilimento è a rischio, come è a rischio lo stabilimento che abbiamo a Marcianise, perché hanno delle caratteristiche di produzione che sarebbero fortemente danneggiate da questo tipo di legislazione. Siamo ora sulle pagine di Chieti del messaggero. Il distretto dei trasporti Tua si sposta nell'area Brecciarola. Scongiurato il rischio del trasloco a Pescara ci sarà ottimizzazione dei costi. Nel nuovo stabile, oltre al deposito bus, una foresteria e zona comfort per gli autisti. Un team di tecnici ha individuato l'area di proprietà Central Park. Di nuovo un servizio firmato dal TG6. Credo che dopo un periodo di polemiche, in qualche circostanza anche strumentali, questa mattina abbiamo concluso un ITER e Chieti avrà, così come avevamo preconizzato, il suo distretto nuovo ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello che finora è stato pagato. Noi abbiamo individuato un team di un ingegnere, un architetto e un esperto di flussi sul trasporto che hanno fatto una serie di valutazioni circa le manifestazioni di interesse, hanno individuato quest'area che è corrispondente non solo alle esigenze del traffico e alle volontà espresse dalla tua, ma si raccorda molto bene anche con quella che sarà la prospettiva strategica di questo territorio che il sindaco di Primio ha già in qualche misura sottolineato attraverso l'applicazione del masterplan. È una struttura che sorgerà in una zona strategica della città di Chieti, a meno di 4 km dalla stazione ferroviaria, in prossimità dello svingolo dell'accesso all'asse attrezzato, in una zona che urbanisticamente è definita commerciale, dedita alle attività produttive commerciale e artigianale e quindi credo che non si potesse trovare un posto migliore di questo. Saranno 4.500 metri quadri completamente pianeggianti, non ci saranno terrazzamenti e quindi ci sarà una facilità da parte dei pullman di essere smistati subito, senza alcuna interferenza sul territorio e di rientrare poi nel proprio deposito. Veniamo a Lanciano, emergenza alcol alle 10, già ubriachi. La dirigente Antonietta Fabrizio, molti utenti si rivolgono alle strutture dei nostri ospedali già di prima mattina. Partita la campagna di prevenzione, occhialetti speciali con i quali si possono vedere i danni, soprattutto per chi guida. Massima attenzione presso Sagra e Fiere, laddove l'assunzione può essere quasi inconsapevole. Andiamo ora sulle pagine di Teramo del messaggero ospedale, ipotesi Villa Mosca, referendum sulla futura sede, specca del PD. Così la ASL avrà una vasta scelta su dove realizzare la struttura. Futuroin propone di sentire i cittadini sul sito unico della nuova struttura. A sorpresa, bocciata la proposta di installare telecamere negli asili e nelle case di riposo. Sì, solo di pomanti. Poi di spalla, bus, guasto, studenti a piedi, caos e proteste. Oggi è in programma una manifestazione contro i forti disagi nei trasporti pubblici. Tutto questo a Teramo sempre. E qui ci trasferiamo a Giulianova, urla in municipio, sindaco minacciato. Un giovane entra in comune e affronta Ivan Costantini, il primo cittadino. Se provi a mettere il daspo, ti veniamo a prendere a casa. I carabinieri in serata hanno identificato un 27enne. Il primo cittadino, non lo denuncerò, ma tolleranza zero. Due banditi tentano la spaccata in tabaccheria, allarme furti nelle abitazioni in villa. Proseguiamo, lasciando il messaggero, ci torneremo per leggere le pagine di Sport. Andiamo sulla città e ripartiamo da pagina 7. In calo, i chilometri percorsi in macchina. L'Abruzzo resta comunque ben al di sopra della media nazionale, con la provincia di Teramo in testa. In questa tabella, tra le altre cose, vediamo i giorni di utilizzo. Per quanto riguarda le varie province, i giorni di utilizzo sono 289 a Chieti, 297 a Pescara, 296 a Teramo e 287 all'Aquila. L'Abruzzo comunque ha una media di 292, che è superiore a quella nazionale, che è di 286. Poi ci sono altre statistiche proprio inerenti all'utilizzo dell'automobile in Abruzzo. Andiamo avanti, siamo a Teramo, appunto, nuovo ospedale, inserita anche Villa Mosca. Il Consiglio Comunale cambia la delibera dell'11 luglio 2017 sulla localizzazione del nosocomio. Nulla è cambiato, la scelta sulla localizzazione resta comunque in capo all'asle. Non è stata espressa alcuna preferenza. Democrazia partecipativa senza partecipazione. Continuano a piovere critiche sul regolamento dell'assessore Falini, stavolta da uno dei comitati. È sufficiente un albo con poche regole, inutili 127 articoli di un regolamento con numerose carenze. Andiamo avanti, altre notizie della città di Teramo. Mini Rondò alla chiesa di Cartecchio. Sabato chiude il passaggio a livello di Villa Pavone. Bisogna adeguare la viabilità. Poi ancora bocciate le telecamere negli asili. La mozione presentata da Corona trova apertura e viene emendata e poi respinta. La giornata contro la violenza sulle donne è stata lo scorso 25 novembre. È stato appunto lunedì, l'ultimo lunedì, 25 novembre. Consapevole in provincia di Teramo. Eventi simbolici e incontri a tema per celebrare la giornata internazionale istituita dalle Nazioni Unite nel 1999. Poi ancora la rubrica Vivere Abrex, Arche, in Abrex valorizziamo attività con forme innovative. Poi ancora vediamo in taglio basso una testimonianza del Mamaria, un mare di opportunità in Abrex, ma con gusto. Appunto una testimonianza sull'utilizzo del sistema Abrex nella nostra regione. Andiamo ora a Montorio, proteste per gli uffici chiusi il sabato mattina. Una delibera di giunta limita gli orari dei servizi nel municipio ad esclusione di vigilanza e custodia. Le opposizioni porteranno il caso in Consiglio Comunale. Il Movimento 5 Stelle annuncia una raccolta firme tra i cittadini. Progetto WASH, il no, arriva all'Aquila. Ieri la conferenza dei servizi sul depuratore. Il sindaco di Nereto, Laurenzi, deposita studi e consulenze. Ieri mattina i cittadini e i comitati hanno manifestato il loro no al progetto sotto gli uffici della regione. Vediamo alcuni momenti della manifestazione negli scatti riprodotti proprio sulla pagina della città. In Val Vibrata sempre Beco chiesta l'apertura del tavolo di crisi. L'assessore regionale Piero Fioretti scrive direttamente al ministro dello sviluppo economico Patuanelli. I 54 lavoratori della fonderia sono in cassa integrazione da ottobre. La situazione è ferma dal luglio del 2018. Andiamo a Giulia Nova. Minacce al sindaco sul daspo urbano. No, Costantini, non mi lascio intimorire e non tornerò indietro sulla rocca. A Roseto, via ai lavori per sanare l'area di stoccaggio. La Guardia di Finanza toglie i lucchetti per permettere l'intervento necessario alla richiesta di dissequestro. Sono stati apposti i sigilli nel luglio di due anni fa per le indagini sulla regolarità ambientale della struttura. Poi ancora la cronaca a Silvi, doppio furto in poche ore al centro commerciale. A Silvi, danni ingenti causati dal colpo notturno con spaccata i danni della profumeria Estasi. Poi l'altro colpo, lunedì pomeriggio, la macchina cambia soldi dello spazio giochi. È stata svuotata di circa 3.000 euro. Andiamo ora ad aprire la parentesi legata allo sport, sempre sulla città. Città Teramo a Siena in Paglio, i quarti di Coppa. Esordio dal primo minuto in difesa per Soprano davanti Minelli e Martignago alle spalle di Cianci. Poi ancora Mungo e Cristini non partono. Il centrocampista ex Cosenza ha subito un colpo alla coscia destra, ma non è in dubbio per la gara di domenica. Squalificato a Piacentini, al suo posto Iotti, nei bianconeri. Titolare Gerli. Lasciamo la città, andiamo a vedere i quotidiani nazionali sportivi. Prima di tornare a quelli locali. Ieri prima tranche della settimana di Champions con le partite di Juventus e Atalanta. Il Corriere dello Sport apre con Divino e della Hoja. La firma sul primo posto del girone 1-0 all'Atletico da parte della Juventus. Di Bala regala la vittoria alla Juve con una punizione capolavoro. Poi il saluto militare al turco De Miral. Solo uno scherzo. Poi ancora Olsen che è stangata. Lo stop è di quattro giornate di spalla. Napoli sento tutta la fiducia. Ancelotti rompe il silenzio alla vigilia della sfida che vale gli ottavi di finale. Abbiamo due match point. Mai pensato alle dimissioni. Insigne non è un caso. E poi Inter obbligata a vincere. Siamo migliori di prima. Vediamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Juve-Bella Hoja. Champions League. Atletico sconfitto 1-0. La prudezza di Di Bala. Su punizione blinda il primo posto del girone. L'argentino festeggia col saluto militare a De Miral. Era solamente uno scherzo. Poi una serie di richiami. Inter vola. Lukaku vuole sbloccarsi. A Praga serve solo vincere. Napoli c'è 6. Ecco Ancelotti. Niente guerra. A Liverpool tira aria di disgelo. Atalanta credici. Battuta la Dinamo. Il sogno ottavi. E ancora vivo. Andiamo sulla prima di tutto sport. Che apre così incredibala. La Hoja stende l'atletico con una prodigiosa punizione alla Maradona. E mette in cassaforte il primo posto della Juve nel girone di Champions. Sotto la testata. Bella come una dea. Super Gomez tiene in corsa la splendida Atalanta di Gasperini. Alla prima storica vittoria in Champions. Vai Inter. Conte non molle. Lukaku lo spinge. Forza Napoli. Ancelotti si svolta. Ma quali dimissioni? Poi in taglio basso. Bologna. Allenamento extra. Che sorpresa tutti in campo. Con Sinisa. Andiamo ora sui quotidiani abruzzesi. Andiamo a leggere le pagine del centro. Ecco qui. Memushai. Caro Oddo. Scusa ma devo batterti. La mezzala albanese. Sarà bello rivedere il mister con cui siamo andati in A. Amo giocare. Spero di stare bene fisicamente. Di continuare a divertirmi qui. E poi ecco se ne era parlato nei giorni scorsi. Ora l'argentino Belloni è arrivato a Pescara. Belloni al lavoro con la primavera. Nicolás Belloni. 18enne proveniente dal River Plate. Per ora un rinforzo della primavera di Le Grottaglie. E poi ancora. Domenica. Sfida del cuore in nome di Renato Curi. Il figlio. Sono rimasto affezionato a Perugia. Ma a Pescara due club portano il suo nome. La Serie C. Coppa Italia. Il Teramo va a Siena. Tedino fa turnover per accedere ai quarti. Stasera debutto stagionale per il difensore soprano. Il tecnico gioca chi sta meglio. Chance per Minelli. Chi si qualificherà affronterà la vincente di Avellino Ternale. Poi la Serie D con il magic moment del notaresco. Sansovini. L'uomo derby. Battiamo anche il Chieti. L'ex Pescara sempre segnato contro le abruzzesi. In estate è stato contattato dai neroverdi. Ho subito detto di no. Il mio cuore è biancazzurro. Vogliamo lottare per il vertice. Teatini in emergenza. Si ferma anche Fantauzzi. Pineto in prova. Westermark. Andiamo avanti. e siamo al calcio a 5. Acqua e Sapone che rimonta. La Colormax batte il Padova. Calcio a 5 di Serie A. Vittoria col brivido per i nerazzurri con Guy che ribalta la gara. 11 secondi dalla Sirena. Pescara vince 5-2 e allunga a 4 la serie di risultati utili. Lasciamo il centro. Andiamo a chiudere con il messaggero. Anche in questo caso troviamo le parole del centrocampista del Pescara. Lenyan Memushai. Memushai ritrova Oddo. Vince il Delfino. L'albanese era capitano biancazzurro della promozione 2016 con il tecnico pescarese. Be ricordi. Voglio vivere ancora tante annate così con questa maglia. Ascoltiamo anche noi le parole di Memushai. Lenyan si pensa a questa sfida con il Perugia. Perugia Massimo Oddo. Pescara di Massimo Oddo. Evoca. Be ricordi per te. Sì. Sì. Abbiamo passato dei momenti bellissimi. E qualche momento anche un po' meno bello diciamo. Però sarà un piacere ritrovarlo il mister. Però purtroppo è una parola. è una partita di calcio dove noi vogliamo fare risultato. Quindi sarà bello vederlo prima della partita. Dopo dobbiamo pensare a noi stessi. Massimo Oddo alla guida del Pescara. Al suo fianco c'era proprio Luciano Zauri. Quali sono le differenze tra i due allenatori? Non solo da un punto di vista tecnico ma anche caratteriale. In cosa sono diversi? Se sono diversi in qualcosa. No. Devo dire la verità. Sono molto simili anche nel modo di fare e di lavorare. Quindi sono tutti e due ottimi allenatori. Per il mister questo è il primo anno. Invece il mister Oddo è già qualche anno che allena. La differenza è solo quella. Però in panchina vediamo Oddo agitarsi spesso. Luciano Zauri un po' più freddo da questo punto di vista. Sì, sotto quel punto di vista lì sì. Sono due caratteri un po' diversi diciamo. Però tutti e due sono due che ci tengono molto. Quindi sarà una bella partita. Il Pescara di Massimo Oddo e il Pescara di Zauri. Quali differenze e se ci sono delle analogie tra quella squadra e quella di oggi? Quella squadra, pensarla ad oggi, c'avevamo, secondo me, una delle squadre più forti. Perché se penso a Torera, Mandragora, Verre, Caprari, La Padula, Mitrita. Veramente era una squadra forte, secondo me. Questa è una squadra diversa, diciamo. Però anche questa, secondo me, può dare grosse soddisfazioni. L'inizio della stagione, tutti parlavate di questo obiettivo primario della salvezza. Prima la salvezza, poi si vedrà. Adesso a distanza di qualche settimana, con risultati anche diversi, si può alzare un po' la sticella? Secondo me, l'ho detto forse anche un po' di tempo fa, è sbagliato parlare di obiettivi. Secondo me è meglio parlare settimanalmente, pensare a settimana dopo settimana. Lavorare duramente tutti i giorni e ragionare a settimana, invece che a lungo periodo. Poi ancora, sempre su fronte a Pescara, Brunori piace anche al Teramo e a due Emiliane. Per il volley di A2 entusiasmo sieco e si rivede Marx, ortona impazzita per il primo posto, il tedesco agli allenamenti, ma coach Lanci non lo rischierà. Serie C, torniamo al calcio. Teramo con la Robur, operazione turnover. Coppa Italia per gli ottavi, difficile trasferta a Siena. Mister Tedino è chiaro, utilizzerò chi mi offre le maggiori certezze dal punto di vista psicofisico. Poi ancora, di spalla per il campionato di promozione, l'Aquila in vetta, insidie Mutignano e Montorio. Le parole di Benedetto, ma ora pensiamo al forte Fontanelle. Per il calcio sempre ma di eccellenza, Castelnuovo recupera con il fanalino paterno e può allungare la marcia in vetta alla classifica. La squadra di Fabio, ecco qui, la squadra allenata da Di Fabio, in caso di vittoria, potrebbe trovarsi a più otto punti da Lanciano e al Badriatica. E per il calcio a cinque, importanti vittorie per Acqua e Sapone e Color Max. Noi chiudiamo qui questa edizione di Mattino 6, che tornerà domani ovviamente alle ore 8. Vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente nelle tre edizioni principali del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie a Loris Bennato in regia e grazie a voi per la cortese attenzione e buona giornata. Grazie a tutti. Buongiorno e bentornati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 27 novembre 2019. Pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali. Chiaramente grande attenzione anche a quanto accaduto ieri con la fortissima scossa di terremoto che ha colpito l'Albania. Vediamo subito le prime pagine delle testate locali, iniziando dalle quattro edizioni del centro. Qui siamo sull'edizione di Pescara, l'apertura a bimbi intossicati, famiglie risarcite in ospedale dopo il pasto a scuola, ritirate le querele contro CIR. E poi appunto andiamo sotto la testata, terremoto Albania in ginocchio, oltre 20 morti e centinaia di feriti per la forte scossa avvertita anche in Abruzzo. Poi ci sono le testimonianze, due pescaresi a Tirana, terrorizzati, dicono, ma siamo vivi. E poi ancora ci sono due calciatori del Pescara, che sono appunto albanesi, e l'Ancastrati e Legnan Memushai, e appunto entrambi in ansia per i parenti. Però per fortuna, insomma, i parenti dei due calciatori albanesi stanno bene, due giocatori del Pescara. Scendiamo a centro pagina, intanto con la fotonotizia, i calciatori in ospedale, anche noi contro i linfomi, visita nel reparto di Angrilli, da parte di una delegazione di giocatori biancazzurri. Di spalla, appalto a Universal, si beve caffè abruzzese nel Ministero degli Emirati, e quello appunto di Universal Caffè di Moscufo, che è stata scelta tra i marchi selezionati per la fornitura. L'accordo prevede due anni appunto di fornitura. E poi ancora i richiami di cronaca, Francavilla, coltelli in mano, inquilini morosi aggrediti in casa, in due gli arresti. Visite nelle aziende, Confindustria apre le porte agli studenti. E poi stop a file e burocrazia, anagrafe unica, certificati facili a Montesilvano. Scendiamo in taglio basso il concorso per il dopo Fagnano, vertice sanità, si sfidano in 41, Dipartimento Salute in Corsa, tra gli altri, Damario, Zavattaro e Muraglia. E poi ecco la classifica, nominati, l'ospedale di Pescara batte tutti. Andiamo avanti, siamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto, con questa apertura a Natale, shopping da rilanciare. Chieti, la camera di commercio in campo, con luci d'artista e teatro. In taglio medio, la fotonotizia via libera, il nuovo deposito tuo all'affitto, costa la metà, sia al trasferimento a Chieti Scalo. Di spalla, Lanciano si beve alcol, già a 12 anni in aumento, le ragazzine tra gli adolescenti bevono in ugual misura donne e uomini, mentre tra gli adulti sono gli uomini ad alzare di più il gomito. È quanto è emerso nell'iniziativa di informazione del servizio dipendenze patologiche di Lanciano. Andiamo avanti, siamo ai richiami, marito a processo, farete la fine delle due donne uccise a Ortona. Vasto, cucina chiusa in ospedale, si mobilita la ASL. Andiamo avanti, siamo sull'edizione terramana del centro, l'apertura, ospedale nuovo in Lizza, Villa Mosca. Teramo per il Consiglio Comunale è fra i siti possibili, parola alla ASL. Scendiamo in taglio medio, Wash Italia, le ragioni del no esposte in regione, sit-in all'Aquila. Poi di spalla, calcio di Serie C, Coppa Italia, il termo va a Siena in Paglio, ci sono i quarti, il pensiero per la sfida di domenica, ovviamente per il campionato con la capolista Regina, passa per un giorno in secondo piano. Il termo è di scena stasera, ore 20.30 sul campo del Siena, per gli ottevi di Coppa Italia, in Paglio, appunto, c'è l'accesso ai quarti di finale. I richiami di cronaca a Giulianova, a Daspo Urbano, scritte in minacce contro il sindaco Ivan Costantini, a Silvi, sempre la cronaca, Maxi Bottino con la spaccata in profumeria. Teramo, cade l'intonaco, mercato coperto, a rischio chiusura. Proseguiamo, siamo sulla prima dell'edizione aquilana del centro delitto, la verità nel DNA dei capelli, l'Aquila decisivi gli esiti dei test per trovare l'assassino dell'operaio. Andiamo a centro pagina, la fotonotizia, Malagò porta la giunta del CONI all'Aquila, città nel cuore, il capo dello sport italiano, proprio appunto Malagò. Di spalla, l'intervista al ridotto, Cristicchi, due giorni a teatro, a l'Aquila. Il cantautore e direttore artistico del Teatro Stabile d'Abruzzo, Simone Cristicchi, presenta il nuovo spettacolo Happy Next, alla ricerca della felicità. Il debutto domani, ore 21 e venerdì, ore 17 e 30, al ridotto, del Teatro Comunale dell'Aquila. E poi ancora, andiamo sui richiami di cronaca, Avezzano, addio degli ex arruscitti, il pendolino, a Sulmona, Corte dei Conti, processo per 18, assenteisti, a Castel di Sangro, sparatoria dopo la rapina a un anziano. Proseguiamo, cambiamo testata, ecco la prima del messaggero, Abruzzo, l'apertura, omicidio, primi nomi nel mirino, l'Aquila, una serie di perquisizioni dei carabinieri nelle abitazioni di persone che hanno avuto contatti frequenti con Paolo D'Amico, ucciso domenica, Barisciano, la vittima, conosceva i killer. E poi ancora, l'emergenza a Lanciano, alcol, già ubriachi, alle 10 di mattina. Andiamo sotto la testata, ci sono questi tre richiami, Pescara, negozi vuoti e vetrine spente, la crisi infinita di Corso Vittorio, calci di cuore, sacerdoti contro gezzisti per aiutare l'India. E poi, calcio di serie B, Memushai ritrova Oddo, stavolta vince il Delfino, partita nella partita, quella del centrocampista del Delfino, contro l'ex mister, attualmente alla guida del Perugia. Mercato, Bruno, non ripiace anche al Teramo. Andiamo di spalla, dal cinema al ristorante, Chopin cambia sala a Chieti, un locale dedicato al film di Odorizio, che però non gradisce. In taglio medio, pronti a partire, salvi gli abruzzesi di Albania, la regione mobilita i soccorsi, dopo appunto il terremoto che ha colpito ieri l'Albania. Sempre in taglio medio, dottoressa Novaks alla ASL scoppia il caso a Pescara, intervista TV di Anarita Iannetti. L'ordine annuncia un procedimento, e poi altri richiami. Medico licenziato fa causa alla Fondazione Paolo VI, Gennaro Mauro, ex direttore dei centri di Bolognano e Penne, impugna i due provvedimenti. Lui dice una persecuzione. Poi Chieti la condanna, ragazza molestata, anziano prende 5 anni. In taglio basso, Loreto, la crociata, bocciato, l'impianto per il biometano. Proseguiamo, siamo sulla prima della città, quotidiano della provincia di Teramo, ospedale, inserita anche Villa Mosca, ma per il project della Asla non cambia nulla perché il Consiglio non ha espresso alcuna preferenza. Sotto la testata, impianto di Nereto, proteste all'Aquila per il progetto Wash. E poi la foto notizia, solidarietà adriatica, terremoto, l'Abruzzo manda volontari e aiuti in Albania. Di spalla a Giulianova, minacce al sindaco per l'idea del daspo urbano. E poi ancora, Becco Fioretti scrive a Patuanelli, Martinsicuro, chiesta l'apertura di un tavolo per la vertenza. Restando in Val Vibrata, Tortoreto, fratelli arrestati per una pistola rubata a Milano. E chiudiamo questi due richiami in taglio basso a Roseto, via ai lavori, all'area di stoccaggio dei rifiuti, sequestrata dalla Finanza. A Silvi, doppio furto con spaccata in profumeria, al centro commerciale Universo. Lasciamo i quotidiani locali, Andiamo a vedere i nazionali, le principali testate. Iniziamo dal Corriere della Sera. Crisi all'Italia, tutto da rifare. Conte ammette, non c'è soluzione di mercato. E Patuanelli evoca il ritorno dell'Iri. L'ipotesi di dividere in tre la compagnia di bandiera, possibile intervento della pubblica in vitalia. E poi sotto la testata, ecco qui, forte scossa in Albania, decine di vittime, magnitudo 6.5, il terremoto avvertito dalla Puglia alla Campania, l'Italia invia 200 uomini. La prima di Repubblica, ecco qui, quei 20 ponti che fanno paura, Liguria isolata, IPM di Genova, grave degrado, autostrade non ha il polso della sicurezza, la città assediata dai tiri, il Premier revoca della concessione, niente sconti, perso un milione e mezzo al giorno per i viadotti chiusi. E poi ancora sotto la testata per la politica, governo ci risiamo, tregua già finita, lite tra Grillini e PD, e si riapre, la lite si riapre sulla giustizia. Poi vediamo il fronte terremoto in Albania, Albania ha 25 morti colpiti, tre alberghi, tra le vittime tre bambini, epicentro a Durazzo, il sismo avvertito anche in Puglia e Campania. Andiamo sulla prima del messaggero, prescrizione, strappo nel governo, Conte si schiera con il Movimento 5 Stelle, nessun rinvio scatterà a gennaio. L'alto là di PD e Italia Viva, prima il processo breve, ma tempo scaduto, open perquisiti i finanziatori, IRA di Renzi, e poi a centro pagina, terremoto in Albania, decine di morti, italiani salvi, qui soccorsi inadeguati, nella notte scossa di 6.2 a Durazzo, paura anche in Puglia. All'Italia, il capolinea, l'esecutivo si arrende, la cordata non c'è più, Patonelli e Buffagni, dicono adesso viene il difficile, in arrivo lettera dei commissari, dateci istruzioni, la prima pagina di Libero, andiamo a vedere, assalto giudiziario a Renzi, perquisite 20 sedi del rottamatore, caccia a fondi e carte di credito, legati alla sua fondazione, le toghe però si spiccino a fornire prove, Matteo è un mariolo, o l'ennesima vittima dei PM, e poi ancora sotto la testata, Conte aiuta gli albanesi terremotati, ma ci sono anche i nostri da aiutare, decine di morti a Durazzo, il decreto sisma in Italia, è un flop, andiamo sulla prima del tempo, hanno la faccia come il CUD, i deputati piangono miseria, gli onorevoli all'improvviso si sentono poveri, 10.435 euro, ma ne rivendicano 5.000 in più, sul sito della Camera, tre tabelle secondo cui negli ultimi 10 anni sono stati penalizzati più di tutti, dicono di non aver recuperato nemmeno gli scatti dell'inflazione, pure il PIL meglio dei loro stipendi, e poi ovviamente la dose di ironia che non manca mai nel tempo di Osho, qui oramai sono diventate più le spese che i guadagni, dice appunto il Presidente della Camera, in senso ironico in questa attribuzione, FICO e poi la risposta di Luigi Di Maio, ma infatti secondo me ti conviene tenere aperto solo mezza giornata. Andiamo poi in basso, caos bilancio ama, Lemmetti indagato. Andiamo sulla prima della stampa, Albania, il terremoto fa tremare tutta la costa adriatica. e poi ancora la Procura Autostrade intervenga subito o chiudiamo i viadotti. Via lo 007 che indaga sulle grandi infrastrutture troppo intraprendenti, intervista alla Ministra De Micheli, più manutenzioni e basta emergenze. Andiamo sulla prima del manifesto che apre così, volano stracci per Alitalia, non abbiamo più soluzioni di mercato. Dopo il ritiro di Atlantia, il ministro Patonelli e il premier Conte ammettono che nel consorzio non c'è più ipotesi all'orizzonte, ristrutturazione e dimezzamento del personale, come chiede Lufthansa. I sindacati confermano lo sciopero il 13 dicembre. Voli a terra. E poi sotto la testata trema la costa albanese, 21 morti. Durazzo la più colpita. La prima pagina del fatto quotidiano caccia al tesoro e ai bancomat di Renzi & Company. Scandalo open, finanza viva, perquisiti i finanziatori della fondazione in nove città, i PM era l'articolazione del PD, accuse di riciclaggio, fondi illeciti e falso in bilancio. E poi sotto la testata in par condicio, Telesalvini, i conduttori discutono dell'invasione, troppi inviti, poche domande. E poi sul fronte giustizia, prescrizione, panico al PD che poi salva a purpetta il premier. Avanti, Maidem, non ci siamo. Proseguiamo. Ed ecco la prima pagina della verità, il momento nero del giglio magico perquisiti i finanziatori della Cassaporte di Renzi. Tra loro l'imprenditore Romeo, già coinvolto nel caso Consi, per il gruppo Gavio, gestore dell'autostrada dove domenica è crollato un ponte. L'operazione in dieci città per l'indagine su Open Di Maio, subito a commissione d'inchiesta, l'ex rottamatore attacca i magistrati e prepara la prossima conferenza retribuita ad Abu Dhabi. E poi a centro pagina l'attico di Lady Inps, ora è un problema anche per il Presidente, spieghi quei lavori. In taglio medio i salvataggi aumentano le morti in mare. Lo studio di tre economisti del collegio Carlo Alberto di Torino dimostra che le missioni di soccorso finiscono per agevolare gli scafisti quali usano barche sempre più insicure che naufragano subito. Andiamo ora sulla prima del sole 24 ore. Ilva all'Italia acqua, Patonelli rilancia l'idea di una nuova IRI. Il Ministro in audizione dobbiamo proteggere produzione e imprese un errore privatizzare la siderurgia per Taranto in Italia è una possibilità e poi Conte per l'Italia non c'è una strada di mercato a portata di mano. Poi la fotonotizia divisa in due studio della fondazione Agnelli scuola per sistemare 40.000 edifici servono almeno 200 miliardi. E poi ancora tasse su plastica e auto aziendali l'alleggerimento vale 1,1 miliardi il Premier fa ammenda sull'auto sterilizzati gli effetti negativi. Proseguiamo e andiamo a chiudere questo segmento della nostra assegna con l'avvenire emergenza droghe nuova legge subito la richiesta unitaria delle comunità c'è un'epidemia servono servizi di recupero nel 2019 già 216 morti per overdose a 14 anni la prima assunzione 4 milioni di consumatori e poi la fotonotizia l'Albania scossa dal terremoto sisma del 6.4 con 21 vittime e 600 feriti la solidarietà della Chiesa e poi il viaggio in Giappone in taglio medio il no alle atomiche nel catechismo il Papa le denunce delle operazioni sospette dell'AIF partite dai controlli interni Francesco è tornato a Roma dopo la visita in Asia su Hong Kong chiedo dialogo e pace lasciamo i quotidiani nazionali torniamo sui locali e andiamo sul centro ecco qui pagina 2 il sì condiviso alla riforma dei consorsi la legge passa col voto favorevole di centrodestra e centrosinistra si astiene il Movimento 5 Stelle polemiche sui contributi per gli eventi poi in basso Gisonni conferma sono in attesa parla il prof ingegnere indicato tre mesi fa come commissario del Gran Sasso e poi ancora in questo caso l'argomento è la sanità in 41 si sfidano per il super posto Dipartimento Salute in corsa per il dopo Fagnano anche da Mario Muraglia e Zavattaro oggi la Verì sarà a Roma e poi vigilia calda del tavolo romano Biondi appoggia Verì e avverte niente campanili sul suo piano andiamo avanti e parliamo in queste due pagine del sisma che ha colpito l'Albania sisma in Albania decine di morti un paese in ginocchio scossa di magnitudo 6.5 Durazzo devastata 21 corpi recuperati e centinaia di feriti ed è stato avvertito il sisma anche in Italia paura in Puglia e in Abruzzo scatta la gara di solida età verso il popolo albanese poi le testimonianze due pescaresi a Tirana terrorizzati ma vivi Vincenzo Pellicione 70 anni da 26 pensionato in Albania e la moglie Tati Veglia nell'inferno del sisma la nostra casa è intatta piangiamo i morti di Durazzo e poi ancora in taglio basso l'ansia di Memusciai e Castrati parlano i due calciatori albanesi del Pescara i nostri parenti sono salvi ora la pagina Abruzzo argomento quello degli ospedali la classifica ecco dove si nasce di più in Abruzzo in testa c'è Pescara con 2.369 parti seguono Chieti 1.175 e Avezzano 1.2 l'Aquile Teramo sotto i 1.000 qui appunto c'è anche questa tabella riepilogativa poi ancora troppi i cesarei in Abruzzo la percentuale rimane elevata con punte del 38% anche se il trend nazionale mostra una lieve diminuzione sempre parlando di salute cambiano i percorsi terapeutici apnee notturne e aritmie sì ai nuovi protocolli di cura la giunta regionale su proposta dell'assessore Nicoletta Veri ha approvato i pieni diagnostici che si basano sulla definizione di una rete assistenziale multidisciplinare in basso la De Cecco ospita 30 big delle imprese il club Ambrosetti visita l'azienda di Fala San Martino il presidente del pastificio punta alla borsa andiamo avanti siamo sulle pagine di Pescara scandalo menze bambini intossicati risarcite le famiglie un batterio nel pasto a scuola accordo con cheer food 70 delle 113 parti offese ritirano la querela ed escono dal processo e poi ancora violenza sulle donne no dal carcere direttrice comandante poliziotte sprigioniamo gentilezza energia e speranza proseguiamo nel 2020 in comune previste 55 assunzioni 30 saranno vigili la giunta approva il bilancio e il nuovo piano occupazionale asili e impianti sportivi le gestioni sono sempre in perdita avanti ancora con l'area verde di via Rigopiano il parco dello sport senza luci dimenticati i lampioni nel progetto nel piano lasciato in eredità dalla passata amministrazione non era stata prevista l'illuminazione il vice sindaco Santilli spesi 30 mila euro per fare gli impianti ma l'apertura slitta a fine gennaio avanti ancora con i progetti di Confindustria gli studenti entrano nelle aziende no alla contraffazione i ragazzi del classico d'annunzio dello scientifico da Vinci in visita nelle imprese dirette da Marramiero e di Domenico e poi ancora con questa iniziativa con sfondo sociale calciatori in ospedale anche noi sosteniamo la lotta ai linfomi del grosso Fiorillo Maniero Vittorini e Cisco al centro diretto da Angrilli per la presentazione del calendario e ora le pagine di Montesilvano ecco l'anagrafe unica diventerà più facile ottenere i certificati anche Montesilvano entra nella banca dati nazionale percorsi più agevoli per cambi di residenza e carte d'identità poi ancora a Città Sant'Angelo stilisti dall'est Europa a Città Sant'Angelo per imparare la moda i giovani talenti arriveranno dall'Uzbekistan grazie a Viva la Solidarietà Comune e Università del Design proseguiamo siamo a Francavilla al Mare entrano in casa armati di coltello per sfrattare gli inquilini morosi raid in un condominio di Vialalcione giovane ferito a una mano arrestati dai carabinieri il proprietario dell'abitazione Massimo Di Carlo è un nigeriano stamani il processo per direttissima andiamo avanti il caffè abruzzese conquista gli arabi la Universal di Moscufo vince la fornitura per il Ministero del Tesoro di Abu Dhabi e poi ancora penne con mento di Colle Romano ci sono i fondi per riaprire assegnato un finanziamento di mezzo milione dal Ministero dell'Interno una volta riqualificato ospiterà aule didattiche uffici e un museo di arte sacra e ora le pagine di Chieti con il conto alla rovescia che è già iniziato farfalle d'artista e teatro per rilanciare il Natale il piano della Camera di Commercio per attirare turisti e incentivare lo shopping il 7 dicembre festa con accensione delle luminarie spettacoli in strada e mercatini il servizio del TG6 Presidente tante le iniziative messe in cantiere dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara per queste festività natalizie di Capodanno ma tra l'altro andrete anche fuori l'Abruzzo direi proprio di sì con il ruolo che ha la Camera di Commercio di costruire l'immagine del territorio abbiamo fatto dei filmati grazie alla regione che ci ha dato l'autorizzazione dei filmati molto interessanti che pubblicheremo sui video alla stazione centrale di Milano l'aeroporto Malpenza l'aeroporto Fiumucino e ci saranno delle immagini dove facciamo vedere il resto del mondo perché in questi posti transitano persone un po' di tutto il mondo per far vedere quanto è bello il nostro territorio quanto è interessante la nostra cucina e quanto sono belle anche le nostre montagne e per quanto riguarda il nostro territorio quest'anno come gli anni passati abbiamo scelto di rivitalizzare l'attività commerciale nei due copoluoghi di provincia Pescara e Chieti su Pescara abbiamo rinnovato le luci d'artiste che sono dei veri e propri copolavori su Chieti abbiamo partecipato alle luminarie ed oltre organizzate una serie di eventi e spettacoli per far rivivere il centro cittadino Assessore Febo tanti gli eventi organizzati dalla Camera di Commercio di Pescara Chieti ma c'è anche la presenza della regione che ha fornito degli importanti video e delle importanti immagini che andranno negli aeroporti e nelle stazioni di Roma e Milano Sì con la Camera di Commercio di Pescara ma anche con le altre camere c'è piena sintonia sull'attività di promozione del nostro Abruzzo quindi usciamo fuori dai confini regionali in due location importanti come la stazione di Milano e l'aeroporto di Roma e chiaramente quindi l'obiettivo unico è quello di riportare al centro dell'attenzione il turismo che per troppo tempo è stato un pochino trascurato senza dimenticare chiaramente la città di Chieti e la città di Pescara dove con le luminarie si organizza un bel evento natalizio sempre sul centro la cronaca da Chieti basta vi faccio fare la stessa fine delle due donne uccise a Ortona a Chieti un uomo picchia la moglie davanti ai figlioletti e la caccia di casa poi minaccia lei e la suocera per terrorizzarle fa riferimento al duplice omicidio di Letizia Primiterra e Laura Pezzella andiamo avanti sulle pagine di Teramo la sanità accende il dibattito Villa Mosca è ora in corsa per il nuovo ospedale il consiglio vota l'ordine del giorno di Speca per inserire il quartiere fra i siti possibili bruciata la proposta di referendum di futuro in l'ultima parola tocca alla ASL poi ancora in Val Vibrata a Nereto Wash Italia all'Aquila le ragioni del no corposo dossier tecnico illustrato dal sindaco Laurenzi alla conferenza dei servizi sotto la regione sit-in dei cittadini e poi ancora la cronaca a Silvi spaccata in profumeria Maxi Bottino colpo al centro commerciale i ladri sfondano la serranda con l'auto e portano via prodotti per 10.000 euro qui peraltro vediamo alcune immagini girate proprio ieri dentro il centro scassinato anche un distributore di bevande e poi proseguiamo e andiamo a chiudere questa prima parte con le pagine aquilane del centro omicidio di Barisciano un intreccio di stradine da qui è fuggito il killer giro tra i percorsi sterrati della terra di mezzo che ha inghiottito l'operaio e la verità è nascosta nel DNA dei capelli saranno decisivi gli esiti dei test del reparto investigazioni scientifiche per individuare l'assassino e poi ancora il presidente del CONI Malago l'Aquila nel cuore degli sportivi la giunta del comitato olimpico nazionale per la prima volta in città scusate se siamo arrivati tardi l'entusiasmo del sindaco Biondi giornata storica faremo investimenti da 5,5 milioni per gli impianti e poi l'addio degli ex al pendolino Ruscitti Avezzano in chiesa tanti vecchi compagni di squadra ed ex dirigenti come Torti Cerone e Giannuzzi ci fermiamo qui per la prima parte di mattino 6 spazio alle previsioni del tempo alla pubblicità e poi rientriamo con altri servizi e soprattutto per leggere le pagine del messaggero della città grazie a tutti Grazie a tutti.